Ciao, sono il dottor Asado e oggi ti do 5 consigli per fare un pesce intero alla griglia. Una delle difficoltà più grandi di fare il pesce alla griglia è che spesso si attacca alla griglia e quando lo vogliamo girare si rompe, si spappola la carne perché cuocendosi è diventata molto morbida e poi va a finire che ci rimane pochissimo pesce e non riusciamo a tirar fuori il pesce intero e nel peggior dei casi ci cadono anche molti pezzi sulla braccia, sul fuoco, sui bruciatori e quindi si brucia tutto e facciamo solo danni. Però seguendo questi consigli che ti do oggi non ti succederà mai più. Consiglio numero 1, se devi fare un pesce intero alla griglia meglio non togliere le squame. Le squame eviteranno che si attacchi tanto alla pelle e in più proteggeranno la carne in modo che non si secchi tanto con le alte temperature della griglia. La pelle con le squame le toglieremo una volta cotto al momento di mangiare. Quello che sì dobbiamo fare però è asciugare molto molto bene le squame e la pelle in generale. Tutta la superficie deve essere il più asciutta possibile. Consiglio numero 2, condisci il pesce superficialmente con un po' di sale, pepe e tutto quello che vuoi ma condisci soprattutto l'interno. I sapori dall'interno penetrano molto meglio. Puoi usare un classico aglio, rosmarino, prezzemolo oppure come si usa di più anche all'estero magari le fettine di limone. Adesso che ho il pesce condito e ben asciutto esternamente arriva il consiglio numero 3 oliare molto molto bene il pesce ovviamente sempre per evitare che il pesce si attacchi alla griglia. E questo ci porta al consiglio numero 4 la griglia deve essere ben calda e pulita, super pulita. Se te la trovi sporca come la mia puliscila con una spazzola metallica e poi puoi usare un po' di carta e tanto olio per ungere bene la superficie della griglia però a seconda del materiale con cui hai fatto la tua griglia può darsi che dei pezzettini di carta rimangano attaccati alla griglia. Allora in quel caso tanto meglio usare ad esempio un limone oppure puoi usare una mezza cipolla, una mezza patata. Io ci aggiungo pure un po' di olio sul mio mezzo limone e strofino così finisco di pulire la griglia con il limone anche se rimangono pezzettini di limone sulla griglia non succede niente e si pulisce molto molto meglio. Consiglio numero 5 Dunque una volta che appoggi il pesce sulla griglia resiste alla tentazione di girarlo e guardare come va sotto almeno per alcuni minuti. Se senti che è un po' attaccato aspetta, devi aspettare finché non si stacca praticamente da solo. Ovviamente se vedi che sta bruciando giralo però se hai seguito tutti gli accorgimenti che ho detto prima a questo punto non si dovrebbe attaccare lascia che si formi questa bella crosticina e quando è fatta vedrai che puoi girare il pesce senza problemi, non rimane niente attaccato. Consiglio bonus, se vuoi sapere se il tuo pesce è cotto internamente puoi usare un termometro, l'ideale è che cuocia almeno a 58-60 gradi internamente oppure puoi guardare il colore della carne da questo lato e così cerchi di capire se sta già cuocendo qui probabilmente è cotto anche all'interno e un'altra cosa che puoi fare è prendere qualcosa con una punta e punsecchiarlo. Quando senti che la punta penetra molto facilmente senza resistenza è che la carne è cotta. Se vuoi più informazioni sul barbecue a gas che ho usato per fare questo pesce è un barbecue della Stilv, un'azienda italiana che fa barbecue, cucine da esterno, interno tutte le cellule linux, molto belle te lascio il link al loro sito nella descrizione del video adesso vediamo come vento la pelle viene tutta super! Se ti è piaciuto il video lascia un mi piace iscriviti al canale così mi aiuti a continuare a produrre questi video questo è tutto per oggi, grazie, ciao ciao! iscriviti al canale